Lo Stadio Olimpico non aprirà i tifosi in occasione della finale di domenica sera, assuma quindi l'ipotesi dei maxi schermi all'interno dello Stadio Capitolino. Ad annunciarlo è stato il prefetto di Roma al termine del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ne ascoltiamo un estratto di questa intervista di Federico Sisim. Purtroppo l'iniziativa dello Stadio si è rivelata non praticabile, alla luce della normativa che non consentiva di ritenerla assimilabile alla normale partita in presenza. Per cui valutata anche le limitazioni fortissime che la normativa impone agli spettacoli, agli eventi all'aperto e soprattutto aggravata dalle normative anti-Covid, come dicevo l'iniziativa non si è rivelata praticabile, alla cittadinanza rimarrà l'offerta delle due fanzone, anzi tre postazioni che ci sono ai fori imperiali e a Piazza del Popolo.